Sara Francesca Cucurnia, 37 anni, impiegata in un'agenzia marittima, due figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta, a differenza di quello che ci hanno voluto far credere fino ad oggi, che la nostra città sia piena di risorse ed opportunità e che solo un'amministrazione a 5 stelle sia in grado di farle emergere. Sogna con De Pasquale Sindaco, una città dove servizi, arte, cultura e turismo possano essere finalmente la chiave per aprire la città al futuro e nella quale i nostri figli possano essere fieri di vivere.